allora eccoci qua e buongiorno a tutti partirà o non partirà è certo che parte pietro bisanti on the road da brescia a direzione oltre pop pavese anche oggi consegnata una mega bmw a un parrucchiere di brescia rigorosamente omosessuale per chi non mi conosce mi chiamo pietro bisanti dopo aver trascorso ben 23 anni all'interno dell'arma dei carabinieri two months later dopo essere stato promosso al grado di marshalo capo me ne sono molto più che felicemente andato per abbracciare ligerismo cos'è ligerismo ripriso l'ottenimento il mantenimento della salute non attraverso pilloloni non attraverso siringoni non attraverso la moglie di bassetti che dice matteo piace mai solo mio tienitelo ma attraverso l'osservanza delle regole non scritte ma al tempo stesso impresse a fuoco del dna di ogni essere umano da milioni di evoluzione che sono sole aria pulita esercizio fisico compatibile acqua pulita alimentazione compatibile la mia regola d'oro fuori dai coglioni chiunque non venga a portarci nella nostra vita gioia amore sono l'amministratore unico del sito www.pietro bisanti.it mi occupo di consulenze legali a 360 gradi opere in tutti gli ambiti dove la legge non riservi tale materia all'assistenza di un difensore iscritto all'albo se avete bisogno di un parere su come muovervi nella vostra legalmente nella vostra vita quotidiana info chiocciola pietro bisanti.it whatsapp 3 4 0 7 8 8 1 1 7 4 nella sessione servizi del mio sito trovate il calendario delle giornate igieniste con solo le giornate igieniste degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto ovviamente dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute difendersi legalmente in questo modo sempre più marcio da settembre ricominciamo 24 settembre roma dai per informazione per notazioni giornate igieniste chiocciola pietro bisanti.it per tutto il resto andate a vedere il mio sito la sessione download con i prestampati per la difesa legale gratuita la sessione libri per acquistare il mio libro assassini in pillole la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere e ben prima di quanto non pensiate sarà disponibile la potenza del corpo umano al gorilla non serve una laurea per vivere in salute il primo manuale igienista sul campo sarà un libro che spaccherà bro andate a fanculo maranza di merda allora se volete sosteneremi potete farlo attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito della sessione donazione oppure abbonandovi al mio canale youtube la mia informazione adesso è divisa tra informazione gratuita e informazione a pagamento l'informazione a pagamento potete averla attraverso abbonandovi al canale youtube dalla pagina principale occhio se avete un telefono con ios perché non funziona dovete farlo da un computer con android va bene oppure se volete bypassare youtube potete contattarmi attraverso un versamento annuale una tantum scusate attraverso un versamento una tantum cioè per sempre avrete un abbonamento riservato avete l'accesso al canale telegram riservato dove troverete gli stessi contenuti in abbonamento su youtube se comunque nel mio canale nel link di scusate le note di questo video trovate il link al mio canale telegram libero e alla chat del libera del mio canale telegram iscrivetevi perché è tanta roba e oltretutto perché nel canale telegram ogni tanto ci sono dei contenuti e delle notizie che non pubblico su youtube ho detto tutto molto bene in questo campo di mais ci sono mimetizzati tra una pannocchia e l'altra dei mascherati spero di no ed ora a bomba allora scusate un camion che mi scassa i coglioni dietro certo non si può mai andare al limite di velocità bisogna sempre correre allora avete assistito a i nubi fragili tempeste milano tempeste di grandine tornadi alberi che si abbattono allora signori nessuno nega ci mancherebbe altro che lo facessi io la geo ingegneria e cioè il fatto che irrorano da anni i nostri cieli di merda dando poi la colpa a uno che decide di farsi una doccia calda andate a fare in culo ma anche considerando la geo ingegneria ritengo che i fenomeni estremi siano normali non sapremmo mai se sono devete dovuti solo alla geo ingegneria se sono una come la geo ingegneria una concausa se la geo ingegneria non ne centra niente sono fenomeni estremi ciclici fa caldo niente più niente meno di come fa sempre caldo d'estate non prendiamoci per il culo la differenza qual è è che quando se tu continua a scrivere sui giornali fa caldo fa caldo l'emergenza climatica fa caldo è normale che il il covidiota della situazione utilizzerà questa ennesima arma contro se stesso per vivere male allora la psicopandemenza è finita senza ombra di dubbio chi è vivo è vivo chi è morto è morto chi ha i giorni contati chi sperando per lui di aver fatto un placebo non ha i giorni contati ognuno raccoglierà quello che ha seminato adesso l'obiettivo principale sarà spaventare la gente all'infinito sul cambiamento climatico allora anzitutto vi prego anche se dovessi farlo io spegnetemi e spegnete tutti i canali della controinformazione ove vi trovate a dover essere bombardati da milioni di notizie conferenze dove vi diranno che aboliranno il contante che la vostra casa non varrà più niente eccetera come vedete anche oggi sono andato alla bmw e la vita scorre tranquilla chi ha i soldi ha i soldi chi li ha non li ha la bmw in garanzia fa i richiami tutto va avanti normalmente la differenza tra essere vivi e morti è la differenza tra accendere il cervello e non accendere tutto quello che vi accade sarà sempre comunque frutto di una vostra decisione personale anche con tutte le rotture di cazzo che continueranno a esserci ma fra una notizia del culo di belen e del rolex di totti vi infileranno sempre la rottura di coglioni per farvi star male personalmente mi fa mi fa molto più male il il rolex di totti che non altro quindi detto questo adesso starà a voi con grande intelligenza capire come muovervi io vi do qualche spunto allora come dico sempre a febbraio del 2020 hanno chiuso per poi riaprire a maggio il primo lockdown il più difficile no perché hanno capito che la gente stava sbroccando significa che non accadrà mai mai niente che possa turbare la società civile in una maniera tale da far scaturire un moto di rivolta vero e proprio anche dai più addormentati tutto sarà sempre blando sfumato progressivo è vero nessuno nega che per esempio a livello dei supermercati sono stati degli aumenti importanti anche lì io torno oggi da un supermercato che si chiama il rossetto rossetti che è una catena di brescia dove ho trovato a 99 centesimi l'acqua lauretana a un litro in vetro l'acqua in vetro gasata più a buon mercato è la san pellegrino a milano che trovo all'esse lunga un euro e 29 24 ho trovato veramente dei trovato del salmone selvaggio veramente un sacco di prezzi veramente che spaccano e anche lì tutto sta a voi il il la cosa che non mancherà mai è il cibo perché perché la produzione agricola di allevamenti di frutta al netto di tutti i nubi fragi che potrà esserci nel mondo intero è elevatissima e molto di gran lunga superiore al fabbisogno delle persone ergo c'è cibo per tutti in grande quantità logico che prenderanno la guerra in russia la guerra in ucraina le solite cazzate il nubi fragio la piantagione di ciliegie che andata a farsi fottere per aumentare rompervi i coglioni e le contromisure saranno le stesse loro non potranno buttare tutto il cibo prima o poi bisogna avere un po di pazienza questo non significa che non ci sia un piano atto a impoverire la gente questa cosa la stanno facendo in maniera progressiva e quindi l'unica maniera per per reagire è fare prendere le decisioni giuste non indebitarsi per le cazzate andare a guardare le offerte guidare una fiat uno come faccio io che se vi si rompe la marmitta la pagate 50 euro e non le bmw che vedo continuano a uscire dalle officine di bmw dove signori miei così non ce n'è cioè al scusate un secondo è che devo capire dove devo andare aspettate un attimo devo capire dove devo andare ok quindi quello che mi viene da dirvi è proprio questo cioè le decisioni alla fine sono personali sono un sacco di posti dove si può vivere pagando affitti ridicoli dove le case costano poco è vero che c'è un progressivo è vero che c'è un progressivo sistema piano per impoverire la gente ma è anche vero che le contromisure ci sono e loro non possono bloccare completamente la società quindi farete prima ve lo garantisco io a morire e soprattutto a morire male a causa della vostra alimentazione della vostra vita scriteriata piuttosto che venga che greta thunberg venga a togliervi la casa ve lo garantisco quindi piantatela di avere paura vi è c'è ancora in giro un grandissimo grado di libertà voi non la percepite perché non siete capaci di percepirla ma c'è ancora un grandissimo grado di libertà io sono libero di alzarmi al mattino e fare quel cazzo che voglio dalla mattina alla sera sì l'altra volta mi hanno fermato i carabinieri 10 minuti del mio tempo e via quindi se finite in ospedale ci finite per colpa vostra se finite male ci finite per mano vostra oggi ho ricevuto l'ennesima chiamata di una persona sotto psicofarmaci che mi dice sono così perché mio padre tutti che litigano tutti che fanno figli senza sapere quello che stanno facendo gente che si mette insieme senza sapere quello che sta facendo tutto va fatto dal mio punto di vista con grande maturità e alla fine vi posso garantire continuerete a capire che se sono le vostre decisioni che vi portano un certo vi fanno vivere una certa vita e non le decisioni prese da quattro burattini gestiti da quattro pedofili satanisti ok il ricordate che il cosiddetto progresso dall'auto elettrica alla caldaia governata da alexa o altre cose si scontrerà sempre con quello che è la vita reale cioè nel momento in cui l'intelligenza artificiale voi spegnete il computer rimane il mondo reale quando la gente mi dice ai robot ci sostituiranno certo i robot sono capaci di andare a prendere una bmw portarla da un'altra parte avvertire un cliente se c'è un problema dai non prendiamoci per il culo non prendiamoci per il culo sì l'automazione farà parte della vita lo farà parte sempre di più ma ricordate che siamo e rimarremo sempre umani anche quando tentano di farvi vedere no il la grande confusione c'è sessuale che c'è in giro e tantissime altre così sfaccettature perverse della 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 psicologia umana ricordate che non vi stanno facendo vedere invece la parte della popolazione sana che si alza al mattino che lavora che ama i propri figli chiama i propri animali domestici che vive senza paturnie non nego che l'alimentazione moderna stia veramente plasmando in maniera brutale in negativo la gente ma come sempre una decisione vostra potete mettervi in bocca quattro pesche o mettervi in bocca una barretta di cioccolato al latte non verrà greta thunberg a dirvi quelle poi ricordate un'altra cosa molto importante non vi fate mai prendere dal momento la psicopandemenza è finita chi ha tenuto duro ha tenuto duro draghi diceva i condizionatori adesso entri nei supermercati e sono tutti a meno 12 gradi capite capite che ogni volta che voi vedete quando vedete una notizia quando vi sputano in faccia una notizia ma porca troia contestualizzatela non pensate che sia quella il dogma che andrà avanti tutta la vita fatevi quattro porca troia di risate perché capite che tanto ormai è una guerra chi le spara più grosse quello dice scegliete tra il condizionatore l'ucrana e voi fatevi quattro risate e mettete il condizionatore a meno 22 gradi che porca troia ve ne frega nessuno vi toglierà l'acqua nessuno vi toglierà l'acqua calda nessuno vi toglierà il fresco se lo volete in casa nessuno vi toglie un cazzo oggi al supermercato ho deciso potevo prendere l'acqua in plastica o come sentite le bottiglie di vetro che ballano o in vetro anche stavolta ho deciso al supermercato c'è la merda e le cose buone se voi andate in america l'america ne farò un video riguardo è la patria dei senza tetto drogati di fentanyl oppure anche di persone molto virtuose bisogna capire sempre da che parte stare e soprattutto non dare la corpa agli altri se avete una vita di merda perché sarà sempre e comunque una vostra decisione occhi aperti perché il mondo è un postaccio avanti così